Ciao cari amici, in Ucraina sulla prima linea ci sono sempre delle novità negli ultimi giorni. Si tratta soprattutto di una lenta ma molto decisa avanzata dell'esercito russo. Io già vi ho spiegato nei video precedenti anche sul mio canale privato Telegram dove io ogni giorno sto aggiornando le notizie e pubblico vari materiali soprattutto quelli che non vengono pubblicati e divulgati dai media occidentali. In pratica si tratta non di una grande offensiva dell'esercito russo. L'esercito russo in questo momento sta cercando semplicemente di prendere le posizioni più adatte sia per la difesa sia per la preparativa di una futura offensiva importante. Per adesso i russi agiscono solo con le forze che erano stabiliti per la difesa della linea. Quindi non ci sono ancora i riparti d'assalto veri e propri. Tutte quelle notizie che noi leggiamo sul fatto che i russi hanno conquistato quella parte e l'altra dobbiamo capire che tutte queste operazioni vengono svolti da riparti militari che erano dispiegati sulla prima linea per la sua difesa. Sono riparti di difesa. Anche se è vero che tra questi militari ci sono i riparti che sono in grado di svolgere le operazioni d'assalto ad esempio come le truppe dei paracadutisti ma anche semplici miliziani del Donbass che dal 2014 ad oggi combattono hanno grandissime esperienze quindi non hanno nessun problema di uscire dalle trincee e cambiare molto veloce la strategia, prendere iniziativa quando vedono che il nemico si è indebolito che il nemico si trova in difficoltà con l'aiuto di artilleria e di aviazione e loro prendono le posizioni migliori per poter dominare il territorio e poter evitare che il nemico dominasse il territorio. Quindi quello che sta accadendo adesso in prima linea non è ancora una vera e propria offensiva che può essere chiamata offensiva dal punto di vista strategico semplicemente si tratta di cattura delle posizioni ottimali posizioni che comprendono capisaldi, roccaforti molto importanti dell'esercito ucraino con l'intento di preparare il terreno per una futura probabile offensiva vera e propria dell'esercito russo. Ovviamente questa situazione sta avvenendo anche perché l'esercito ucraino ogni giorno diventa sempre più debole. Noi abbiamo visto di recente diversi episodi, quello che arriva anche da notiziari ucraini quello che diffondono i canali telegram, i corrispondenti di guerra ucraini sono sempre notizie meno o più incoraggianti per l'esercito ucraino si parla di una demoralizzazione molto vasta si tratta di mancanze di rifornimento ai riparti in prima linea ci sono gli episodi veramente drammatici io ho condiviso alcuni video sul mio canale privato telegram li condivido ogni giorno però in particolare l'altro giorno ho condiviso un video in cui c'è stata filmata dagli operatori dei droni russi la totale disfatta, io lo chiamerei massacro di un'unità della quarta divisione ucraina che loro si chiamano, perdonatemi non è divisione, è reggimento il quarto reggimento ucraino che si chiama Azov diciamo che si tratta di un ex battaglione Azov loro hanno chiamato reggimento, hanno cambiato un po' lo stemma comunque è rimasto sempre un covo dei nazisti come era e loro si trovavano in una posizione nei pressi di Artyomovsk quindi quello che si chiama Bakhmut secondo gli ucraini si trovavano nella direzione del nord loro per un po' di tempo hanno tentato di sfondare le posizioni russe questi loro tentativi sono trasformati in quello che ucraini chiamano gli assalti di carne alla fine sono rimasti sulla loro posizione con pochi rifornimenti, con poche munizioni uomini stanchi, ovviamente con difficoltà di logistica e sono stati attaccati dai russi i russi hanno prima bombardato questa posizione con artilleria poi dopo sono passati all'assalto con armi leggere e alla fine hanno mandato i droni per finire i feriti amici un video terribile, raccapricciante io l'ho pubblicato proprio perché a mio avviso questi video vanno pubblicati perché chi crede che la guerra è qualcosa di grottesco qualcosa attorno a cui si può creare dei discorsi glorificanti deve vedere come muoiono le persone in questo caso sono morti i nazisti ma comunque erano anche loro esseri umani e vedere come un essere umano more nelle sofferenze terribili è veramente una cosa atroce e questa è la realtà ormai di prima linea dalla parte dell'Ucraina i militari sono demoralizzati, abbandonati a loro stessi il comando manca, non hanno rifornimenti hanno poche munizioni, non si può fare rotazione perché finiscono tutti nelle piccole sacche strategiche e una delle zone in cui adesso sta andando avanti avanzata russa è una zona molto importante della quale si sente parlare è una zona di aceretino qua bisogna dire cari amici che nei chat italiani tra l'altro mi hanno scritto diverse persone e ho guardato anche un po' di alcuni nostri esperti sia propagandisti atlantisti sia chi cerca di essere obiettivo comunque molti fanno errori che chiamano occheretino, achiretino o ocheretino tra l'altro cari amici facendo un enorme errore dal punto di vista linguistico un errore anche un po' maleducato perché in russo la parola achiret proviene dalla parola kher che sarebbe il sono i genitali maschili e quindi non è proprio bello pronunciare questa parola e ovviamente i russi non sono talmente folli da chiamare una città in questo modo la città si chiama occheretino arriva da una parola occheret che una volta nella lingua diciamo ancora slava si chiamava il bordo di una confine quindi come una specie di confine creata artificialmente per separare una città dall'altro oppure un cortile dall'altro e questo è in grande linea il nome della città occheretino e questa città è molto importante anche se non tutti riescono a capire la sua importanza perché intanto cosa succede a occheretino vi volevo raccontare intanto occheretino fa parte di diciamo questa avanzata molto importante che adesso le russi stanno facendo ad Avdeevka, a Kleshevka, ad Artyomovsk, Kupiansk e anche a Marinka e sul diciamo nei pressi di Avdeevka ci sono importanti movimenti Avdeevka è molto importante voi sapete per una serie di motivi vi ho spiegato anche in qualche video precedente perché si tratta di un punto molto importante dal punto di vista ideologico si tratta di un punto strategico lì i russi stanno chiudendo le tenaglie e stanno preparando quella che sarà la sacca tattica nella quale ormai sappiamo che finirà una parte consistente dei militari ucraini che si trovano sul luogo c'è la località di Oceretino una piccola località non tutti capiscono il suo significato perché dicono ma come mai io l'altro giorno tra l'altro ho letto un mio lettore mi ha scritto dicendo la sua diciamo opinione dicendo Nicolai ma perché i russi mettono così tanta diciamo fatica così tanto tempo per conquistare questi punti perché semplicemente non girarli attorno perché non fare una propulsione andare veloci amici qua bisogna dire che nessuno vuole andare veloce nella guerra la velocità è un fattore determinante solo in certe situazioni qua quando si tratta di spostamento lento di un'intera linea di fronte essere più veloci degli altri può essere anche molto fatale per cui i russi si muovono più o meno su tutta la linea di fronte con la stessa dinamica la stessa velocità e questo è molto importante perché non si può fare degli slanci all'interno fare delle proiezioni all'interno del territorio del nemico se non sei seguito da tutta la linea di fronte altrimenti rischi di creare così attorno a te una vera e propria sacca cioè finire tu da solo nella sacca tattica sarà molto complicato poi dopo uscire da questa situazione comunque diversi cittadine sono molto importanti e non è questione della grandezza di una cittadina la questione è dal luogo in cui questa cittadina si trova si capisce molto tutto quando si vede quando si vedono le mappe con rilievo del terreno io ho pubblicato ad esempio altro giorno alcune delle mappe del genere perché proprio dal rilievo del territorio si capisce dove si trovano le alture dominanti quindi in questo momento i russi stanno prendendo sotto il loro controllo le alture dominanti su quella che si chiama l'arco di Donbass questa è una situazione molto importante se russi prendono tutte queste alture dominanti da queste alture dominanti loro riusciranno a lavorare con artilleria senza grossi problemi contro l'esercito ucraino che si troverà in posizione ovviamente inferiore rispetto a loro e con questo riusciranno sia allontanare l'esercito ucraino da proprie linee sia sostenere attivamente con fuoco di artilleria un probabile avanzata dell'esercito russo quindi è molto importante tenere sotto il controllo le alture dominanti e Occeretino si trova proprio in una questa posizione ma Occeretino cari amici è anche molto importante per un altro motivo perché sulla cresta di colline dove si trova il villaggio il villaggio di Occeretino si estende diciamo lungo la cresta di diverse colline sono tre colline che sono unite insieme quasi come una grande collina e su parte più alta di queste colline si estende questo villaggio e proprio da lì da queste colline partono diciamo nascono tre fiumi importanti fiume Volcia fiume Krivoj Terjez e Kazonny Terjez sono tre fiumi quando noi parliamo di questi fiumi non sono fiumiciattoli piccoli amici lì quando parliamo anche di fiumi di diciamo che loro i russi chiamano fiumi piccoli noi dobbiamo immaginare che comunque sono fiumi che hanno una una certa importanza è chiaro che non sono come Dnipro oppure come Danubio però sono comunque fiumi che hanno una certa dimensione questa dimensione fa sì che sono molto difficili da attraversare non sono fiumiciattoli attraverso quale si butta un pezzo di legno una qualsiasi non so scala si si passa si tratta dei fiumi che per essere attraversati hanno bisogno di un certo impegno dei certi mezzi certe strutture architettoniche e proprio questi tre fiumi che partono da queste colline in qualche senso creano diciamo una chiusura cioè formano una frontiera naturale e proprio quello che sta facendo adesso l'esercito russo è cercare di spingere l'esercito ucraino dalle alture fuori da questi fiumi cioè dall'altra parte di questi fiumi e una volta riuscita questa attività per l'esercito russo sarà più facile gestire la situazione in prima linea sarà più facile gestire la logistica creare tutte le strutture di rifornimento disporre l'artilleria sulle colline perché sarà sempre meno il rischio di una probabile invasione del nemico incursione del nemico perché il nemico sarà ormai dall'altra parte del fiume e come sapete il fiume una frontiera naturale è molto facile da controllare basta schierare dei riparti di ricognizione osservatori con i droni fare diciamo un'attività di sorveglianza seria e dall'altra parte non passa nessuno quindi da questa parte controllata dai russi si può disporre tranquillamente tutti riparti di artilleria di rifornimenti di logistica senza temere che il nemico possa fare delle azioni di sabotaggio di colpire all'improvviso di danneggiare le armi e così via per questo motivo cari amici è molto importante questo villaggio che si chiama Oceretino non si tratta di nessun altro tipo di spiegazione non c'è nessuna importanza nella stessa cittadina perché ormai è quasi tutta demolita perché da tempo l'esercito ucraino l'ha trasformato in una roccaforte e qua bisogna dire che i russi sanno benissimo che questa è una zona di importanza strategica spingono molto forte e adesso diciamo il villaggio non è più sotto controllo degli ucraini villaggio in parte ormai è controllato dai russi intero villaggio si può dire che si trova in una zona grigia sicuramente la parte ovest del villaggio e la sua periferia ovest cioè la discesa della collina dell'ovest è nella zona grigia questo significa che è una zona dove ormai lavora l'artilleria sia russa che ucraina e gli ucraini comunque sono in difficoltà perché? perché i russi sono già nella posizione dominante sono già sull'altura e questione di poco tempo vedrete che i russi manderanno gli ucraini fuori dall'altra parte del fiume e allora noi vedremo consolidarsi questa parte di fronte i russi sicuramente piazzeranno i loro cannoni di grosso calibro sopra queste colline e allora cambierà notevolmente la strategia di azione dei russi in questa guerra in quel settore per questo motivo cari amici o ceretino è così importante amici io vi ringrazio per essere stati qui con me se avete domande scrivetemi io vi invito sempre di abbonarvi al mio canale privato telegram se non l'avete ancora fatto io sul mio canale racconto tutto quello che non ci raccontano i media occidentali che sono veramente vergognosi sono soprattutto italiani noi abbiamo dei propagandisti che ci inventano ogni giorno delle notizie che pur di parlare di realtà oggettiva preferiscono fantasticare e creare delle delle realtà inesistenti comunque io vi invito di fare abbonamento al mio canale dove racconto tutto quello che viene censurato strumentalizzato oppure tacciuto per fare l'abbonamento basta andare nella descrizione a questo video troverete un link se fa tutto in pochi secondi vi invito anche di sostenermi qua su youtube iscrivendosi al mio canale magari se vi va di commentare condividere i miei video con i vostri amici mi farete un grande piacere inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama la guerra e l'odio proprio in questo libro io racconto le origini della guerra in Ucraina se siete interessati a questo argomento leggetelo e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate amici vi mando un forte braccio vi ringrazio per essere stati qui con me e vi voglio bene a questo argomento e vi voglio bene